Ieri mi trovavo nell'unico posto al mondo dove puoi essere certo di non trovarmi mai, ovvero il mio ufficio, dato che sono sempre in giro. Tento suonare alla porta, vado ad aprire e trovo una ragazza, praticamente in lacrime, che mi confida di aver perso la sua tesi di laurea, o meglio, di sapere benissimo dove si trovava, cioè sul pendrive che aveva in mano, ma di aver perso la password con cui l'aveva protetta. A questo punto le ho chiesto qualche informazione sulla password per capirne la complessità e lei mi ha risposto che è una password molto molto complessa, infatti proprio non riesco più a ricordarmela. A questo punto le ho chiesto di lasciarmi il pendrive, le ho detto che avrei provato a recuperarla e che le avrei fatto sapere. E secondo te come sarà andata a finire questa storia? Ma soprattutto perché ti riguarda così da vicino? Scopriamolo insieme. Ti senti pronto? Iniziamo! A costo di farti uno spoilerone, ti dirò subito che ho richiamato quella ragazza dopo 45 minuti dicendole che la sua tesi era salva. E questo non perché sia bravo io, ma perché quella che lei pensava fosse una password complessa non lo era affatto. Vediamo perché. Per scoprirlo voglio fare insieme a te un piccolo test. Ti metto qui in alto due password di differente complessità e voglio darti qualche secondo di tempo per cercare di capire secondo te qual è la password più difficile da scoprire. Ci hai pensato? Bene, scommetto che probabilmente avrai sbagliato perché avrai pensato che la password più difficile sia questa qui. In realtà la password più complessa da scoprire è quest'altra, ma andiamo a cercare di capire il perché. Quello che stai guardando è un sito specializzato in cyber security che si chiama Dark Hole. Andiamo a vedere che cosa dicono a riguardo delle password. Nel loro articolo All your passwords belong to us mettono un interessante schemino, cioè questo qui, che spiega che la password apparentemente più complessa, quella che conteneva un misto di simboli, numeri, lettere maiuscole e lettere minuscole, essendo formata solo da sei caratteri, impiega 13 minuti ad essere scoperta. Mentre la seconda password, quella formata da nove caratteri con lettere maiuscole e minuscole, ci impiega la bellezza di quattro giorni. In realtà questi dati sono falsati in negativo perché a scoprire una password ci vuole molto ma molto meno. E questo perché questo è un articolo del 5 maggio del 2022. Che cosa è successo dal 5 maggio 2022 ad oggi? Che sono uscite delle nuove schede video. Le schede video sono il motore che viene utilizzato dai cracker per arrivare a scoprire una password. Infatti per scoprire la password della povera studentessa ho utilizzato un pc da gaming, che è quello che poi utilizzo proprio per quanto riguarda i test di sicurezza sulle password. Grazie all'utilizzo di strumenti come questi qui, cioè Kane and Abel, John the Ripper, Zip Password Finder e così via, è possibile arrivare a a scoprire una password di relativa complessità in un tempo ragionevolmente breve. Se torniamo quindi all'articolo che stavamo guardando prima, quello che scopriamo è che per avere una password di ragionevole sicurezza dovremo arrivare perlomeno a 12 caratteri, che richiede in media 5.000 anni per essere scoperta. E naturalmente anche se le schede video dovessero diventare sempre migliori, sicuramente questo tempo non si trasformerà molto presto in un tempo ragionevole per un hacker. Quindi ricapitolando, perché oggi una password possa essere considerata ragionevolmente sicura, dovrà avere un minimo di 12 caratteri, composta da lettere maiuscole e lettere minuscole, con dei numeri ed anche dei caratteri speciali. Un ulteriore consiglio naturalmente è quello di non utilizzare parole presenti nel dizionario, come ho fatto io con cane-gatto, perché l'attacco che ho utilizzato io, cioè un attacco BFC, brute force cracking, è quello che è stato preso in esame nello specchietto che ti ho appena mostrato. Ma esistono anche altri tipi di attacchi che si chiamano attacchi al dizionario, per cui se le tue parole sono parole di uso comune, saranno scoperte molto più facilmente e molto più velocemente. Per quanto concerne invece le password che utilizziamo online, una grossa mano di aiuto ci deriva da Google Chrome. Se infatti andiamo ad aprirlo e ci portiamo in alto a destra sui tre puntini verticali, questi qui, per poi scegliere la voce impostazioni, avremo la possibilità di digitare password nella parra qui in alto. Effettuando la ricerca troveremo il gestore delle password di Google. Apriamolo e sul lato sinistro portiamoci sulla scheda che si chiama controllo. Verrà effettuato automaticamente un controllo sulla sicurezza delle nostre password e questo controllo si articola in tre fasi. La prima è la verifica che nessuna delle nostre password sia stata compromessa. Cosa significa questo? Google va a cercare per noi se sugli elenchi che sono stati pubblicati online di password rubate compare qualcuna delle nostre password e nel caso ci avvisa immediatamente di cambiarla. Che cosa sono questi elenchi? Sono elenchi di password che vengono rubati, sottratti a vari provider, siti web e così via e che vengono rivenduti oppure diffusi sul dark web. E' quindi importantissimo essere certi che la nostra password non si trovi all'interno di nessuno di questi database. Il secondo controllo è quello relativo alle password riutilizzate. Cosa significa? Che non è opportuno utilizzare la stessa password per più siti o utilizzi differenti. Perché una volta sottratta da una parte potrà essere utilizzata contro di noi per aprire oppure accedere ad altri dati che ci appartengono. Infine Google va a verificare che le nostre password siano efficaci. Lui scrive che verifica se stai utilizzando delle password facili da indovinare. In realtà la verifica che viene fatta è esattamente quella che abbiamo esposto nei quattro punti precedenti relativi alla lunghezza e tipologia delle password. Probabilmente come ti sarai accorto oggi la voce non mi ha tanto accompagnato perché probabilmente ho preso un po' di freddo. Ma come ben sai ci vuole ben altro per abbattere noi gentiluomini digitali che andiamo sempre avanti. Se seguirai i consigli del video di oggi sarai ragionevolissimamente sicuro di utilizzare delle password forti. Seguiranno altri consigli come questo per migliorare la sicurezza dei propri account e in particolare per migliorare la sicurezza di Gmail come ho promesso tempo fa. Ma detto questo siamo arrivati al termine del video e non mi resta come sempre che ringraziarti per avermi fatto compagnia, salutarti e darti appuntamento. Alla prossima!